Prevenire è meglio che curare e con questo spirito il Comune dell'Aquila ha avviato una serie di interventi, altri se ne faranno nei mesi successivi, per prevenire il rischio idrogeologico. Del resto ci sono ben 5 milioni da parte del Governo centrale per queste tematiche sempre di attualità, per prevenire disastri che molte città d'Italia hanno messo in ginocchio la popolazione. Così il settore ambiente, guidato dall'assessore Fabrizio Taranta, ha già programmato una lista di interventi a Madonna fuori ad esempio, ma anche nelle frazioni, compresa la ripulitura dei fossi e dei fiumi. La manutenzione del territorio è un aspetto molto importante, ci rendiamo conto come succede in molte parti d'Italia e a causa dei cambiamenti climatici le precipitazioni sono sempre più copiose e si manifestano sempre più in eventi estremi, quindi la cura, la prevenzione e la manutenzione del territorio è un aspetto importantissimo. Noi stiamo lavorando sia all'interno della città, penso a San Giuliano, sia nelle frazioni, a Rischia, Sassa, sono stati approvati già progetti importanti di contrasto a rischio idrogeologico per un totale complessivo di 5 milioni, gli interventi sulle frazioni, più un milione su San Giuliano e altri sono in programma. Stiamo chiedendo ovviamente anche i finanziamenti che lo Stato ci mette a disposizione, il Ministero ci ha finanziato anche la progettazione della parte urbanizzata del Fosso di San Giuliano, quindi un lavoro importante che sta proseguendo su tutto il territorio comunale.